Benvenuti, benvenuti dal Cinema La Compagnia per questo terzo incontro e ultimo del progetto Cinema Classroom. È un progetto che si è svolto in questi ultimi dieci giorni, un programma di film che è lo schermo dell'arte di cui sono la direttrice, mi chiamo Silvia Lucchesi, abbiamo presentato per le scuole di medie e superiori di alcuni quartieri del Comune di Firenze e alcuni comuni limitrofi. È un progetto che è stato sostenuto dalla Fondazione Cassa Risparmio di Firenze nell'ambito di un bando che si chiama Partecipazione Culturale. Oggi siamo qui con Sara Funaro, Assessora all'Educazione e a Welfare del Comune di Firenze. Siamo molto contenti che, Sara, grazie di aver accettato il nostro invito, per parlare di uno dei temi in cui questo programma di film si è strutturato, è il problema dell'ambiente. Gli altri due momenti che si sono svolti sempre di incontro, di approfondimento sul programma dei film sono stati dedicati ai diritti civili e al tema della relazione tra cittadini e spazio pubblico. Non potevamo non affrontare un tema caldissimo come quello dell'ambiente con tutta la narrativa e la letteratura che ci accompagna in questi ultimi anni. Voglio anche ricordare che proprio oggi siamo al secondo giorno dell'Earth Day che è cominciato ieri, 51esima edizione dell'Earth Day. Il giorno della Terra si terrà tutto in streaming questa volta. Mi sono segnata qualche dato molto interessante. Parteciperanno più di un miliardo di persone in tutto il mondo, è organizzato e in collaborazione da oltre 75.000 istituzioni, sono coinvolti più di 190 paesi. È appoggiato dalle Nazioni Unite. Una cosa che mi ha molto colpito è notare il sottotitolo dell'Earth Day. Il titolo e il tema a cui è stato dedicato quest'anno è Teach the Planet. Mi ha colpito perché questa parola è proprio al centro della conversazione di oggi con Sara Funaro. E quindi voglio proprio chiedere come prima cosa questa. Che senso ha la parola educazione legata al tema dell'ambiente e di tutto lo sfruttamento che l'uomo ha fatto del pianeta in questi anni? Intanto buonasera a tutte e buonasera a tutti. Un ringraziamento particolare a Silvia per aver organizzato un'iniziativa così importante, non solo per i temi di oggi ma anche per i temi che avete affrontato precedentemente. Tutti i temi di attualità sui quali dobbiamo porre l'attenzione e mettere come una lente di ingrandimento se vogliamo realmente poi vedere dei cambiamenti nel tempo. Io rispetto alla tua domanda partirei da una domanda che mi piacerebbe porre ai ragazzi. Da dove è nata l'attenzione negli ultimi anni dall'ambiente? È nata proprio da una ragazza. Per cui quando si parla di temi ambientali, quando si parla di temi di sostenibilità ambientali, non si può non partire da tutto il percorso che noi dobbiamo come istituzioni attivare a livello educativo e a livello di informazione e sensibilizzazione. Io devo dire che vivo in un comune e lavoro in un comune che ha sempre prestato tanta tanta attenzione su queste tematiche e se vogliamo realmente avere un presente, un futuro che sia sempre più attento a 360 gradi sulle tematiche della terra, sui cambiamenti climatici, sulle tematiche ambientali, to cure, a tutto cotondo, non si può non partire dalle scuole. Per cui quando si parla di ambiente, parlare di educazione insieme è la base. Perché dico partire anche dai ragazzi? Perché poi i ragazzi fanno l'effetto trascinatore con le famiglie e anche con gli adulti. Lo stiamo vedendo sempre di più tutte le volte che noi portiamo dei progetti all'interno delle classi, poi i ragazzi successivamente, oltre a confrontarsi fra di loro, appassionarsi ai singoli temi, poi tornano a casa, raccontano, sensibilizzano. Per cui diventa un modo per moltiplicare la sensibilizzazione su questi temi. Per cui quando si parla, soprattutto in questi giorni dove se ne parla a livello mondiale, chiaramente di queste tematiche, ma dovrebbe essere 365 giorni, quando si parla di queste tematiche, secondo me, non si può scindere il tema della sostenibilità da un punto di vista ambientale dal termine educazione. Perché devono stare necessariamente insieme. Facevi riferimento a una ragazza che è un adolescente, facciamo il suo nome allora, Greta Thunberg, ovviamente era scontato, che ha iniziato nel 2019, quando aveva 16 anni, tra l'altro ha compiuto da pochissimi giorni, 18 anni sono andata un pochino a scartabellare. Ha iniziato con lo sciopero scolastico per il crema, inventando questi Fridays for Future, a cui hanno aderito piano piano tantissimi giovani in tutto il mondo, appropriandosi, facendo proprio questa spinta. Quindi la giovane generazione è sicuramente, da una parte, come sottolineavi tu, l'effetto propagatore di una riflessione che noi adulti possiamo stimolare. Dall'altro sono stati loro a stimolare noi e a mettere il dito nella piaga. Perché io risentivo alcuni brani degli interventi che Greta Thunberg ha fatto in contesti internazionali, mondiali, importantissimi alle Nazioni Unite, è intervenuta a Davos, eccetera. E ha detto delle cose durissime contro noi adulti proprio, cioè la generazione nostra, più anziana di lei, che ha fatto certe scelte o che non ha fatto certe scelte. Allora, secondo me, io lo dico sempre, Greta ha avuto il coraggio di dire quello che la maggior parte dei nostri giovani pensano. È stata una voce, un motore, che è riuscita poi a far nascere un movimento che è stato un movimento trasversale, tra l'altro, tra tutti i nostri giovani. E lo abbiamo visto, lo abbiamo visto perché il Fridays for Future si è mosso in maniera virale, a livello mondiale, per cui c'è stato un movimento realmente che si è espanso in maniera rapidissima e che ha acceso una miccia di passione, di interesse, di determinazione, di voglia di dire la posizione che i nostri ragazzi hanno su questi temi, la voglia di confrontarsi, la voglia di fare qualcosa perché le cose possano cambiare. Lo abbiamo visto anche a livello italiano, le tante iniziative che poi sono state messe in piedi, non solo a livello cittadino, ma io mi sono ritrovata a vedere tante iniziative sul tema, per dire, della plastica nel mare, il recupero della plastica, tante iniziative sulla cura dell'ambiente, tante iniziative anche sul tema del riciclo dei rifiuti, che è un tema assolutamente non banale sul quale dobbiamo porre un'attenzione fortissima. E a livello educativo, nello specifico, noi abbiamo visto un cambio di passo che è stato un cambio di passo enorme. Faccio un esempio concreto. Noi all'interno del Comune di Firenze abbiamo tutta una serie di progetti che stanno all'interno delle chiavi della città. Tra questi abbiamo progetti che toccano tutte le tematiche, dall'educazione civica, all'educazione ambientale, all'educazione digitale, la sfera emozionale, la parte legata all'arte, alla cultura. C'è di tutto. Abbiamo questo cartellone nel quale le scuole, i ragazzi, possono scegliere i progetti che più gli interessano. Ecco, la cosa che abbiamo visto, sempre di più arrivano scelte legate ai progetti ambientali. In maniera sempre più forte questo sta avvenendo. Normalmente negli anni passati erano tre progetti scelti, però erano nella media tra i tanti progetti che ci sono. Nell'ultimo sondaggio che abbiamo fatto per riaprire il bando delle chiavi della città, anche rispetto ai questionari che abbiamo rivolto per capire l'orientamento e l'interesse, era tra i primi posti vicino all'educazione civica, vicino a tutto il tema della parte relazionale emotiva. Per cui, insieme al tema dell'educazione civica, il tema ambientale, il tema relazionale. Come se fossero un po' i tre pilastri che in questo momento sono necessari per una ripartenza a maggior ragione in un periodo come questo. E tante sono state anche le riflessioni dei nostri ragazzi, l'ho visto nel periodo del lockdown, spesso abbiamo avuto confronti all'interno di videoconferenze legate alle classi e per vari progetti che si portavano avanti. Tante sono state anche le riflessioni che i nostri ragazzi hanno fatto, soprattutto sull'impatto che il lockdown ha avuto sull'ambiente. Lo abbiamo visto, l'abbiamo visto con i nostri occhi, i nostri ragazzi lo hanno visto con i loro occhi. Ecco, la sensazione è che ci sia una forza da parte dei nostri giovani che non deve andare sprecata in questo momento, ma che noi dobbiamo essere in grado di coglierla e soprattutto per chi ha dei ruoli istituzionali prendere quelli che sono le osservazioni, le critiche, i suggerimenti a tutto tondo e utilizzarli per indirizzare quelle che sono le politiche, le azioni istituzionali che possono generare una qualche forma di cambiamento. È molto bello che tu abbia fatto riferimento al progetto Chiavi della città di cui appunto conosciamo. Ora non conoscevo questa ultima ricerca di questo sondaggio. È di ora. Ecco, perfetto. è molto interessante anche i dati che ci stai riportando perché sembra quindi, sembra di poter interpretare che qualcosa sta entrando dentro le nostre fibre proprio. Ora, il tema della socialità di cui parlavo credo che sia riferito a questo extraordinario periodo in cui stiamo vivendo causato dalla pandemia. Quello dell'ambiente è vero che è molto legato anche al tema alla situazione attuale. Ambiente e pandemia stanno insieme. Oggi leggevo che ci sono delle previsioni già con le riaperture di un aumento della tossicità nelle città per esempio. Quindi da un certo punto di vista la pandemia ci ha anche protetto nelle missioni che facciamo usando o non usando bene gli strumenti che abbiamo tipo le auto eccetera. Volevo intanto ricordare al pubblico e ai ragazzi che sono collegati ai docenti che c'è la chat della piattaforma è a disposizione per fare delle domande dunque se volete io le vedo dal mio computer e le riporto a Sara Funaro. Ci puoi dire meglio come funziona il progetto Chiavi della città per chi non lo conosce? Sì tra l'altro noi oggi siamo con dei ragazzi delle superiori chiaramente e per cui siccome questa è una novità che c'è da poco tempo perché precedentemente le Chiavi della città erano tutta una serie di progetti che venivano fatti fino alla terza media da due anni fa abbiamo deciso di ampliarli anche alle scuole superiori perché ritenevamo che avevamo dei progetti che potevano essere di interesse soprattutto per i ragazzi delle scuole superiori diciamo secondo me le Chiavi della città sono qualcosa del quale il Comune di Firenze deve andare profondamente orgoglioso è più di un ventennio che vengono portati avanti fondamentalmente si tratta di una sorta di cartellone viene fatto un bando ogni due anni all'interno del quale vengono scelti degli argomenti sui quali poter presentare da parte del mondo delle associazioni il mondo del terzo settore dei progetti da poter svolgere all'interno delle scuole gli argomenti li decidiamo noi come amministrazione comunale l'assessorato in maniera particolare però avviando un confronto molto stretto e molto serrato quest'anno perlomeno abbiamo fatto così direttamente con le scuole per cui facendo una sorta di sondaggio di quali sono gli argomenti più importanti quali sono gli argomenti più graditi diamo delle linee di indirizzo generali per cui tutti quelli che sono i progetti che possono essere presentati sui temi ambientali sui temi legati all'arte alla musica allo spettacolo all'educazione civica all'educazione digitale altro tema estremamente delicato e importante insomma ci sono gli ambiti della salute tutto quello che può essere in qualche maniera di interesse per i percorsi comunque di integrazione delle competenze e delle conoscenze all'interno delle scuole una volta poi che chiudiamo il bando e le varie associazioni del territorio presentano i progetti si parla tra l'altro di una media di 500 progetti disponibili nel biennio per cui sono anche numeri importanti le singole scuole e le singole classi vanno a guardare sul portale delle chiave della città e scelgono i progetti che gli interessano ovviamente che devono essere di interesse per i ragazzi di interesse per gli insegnanti anche a seconda di quelli che sono i programmi che stanno portando avanti e una volta che viene scelto il progetto viene preso il contatto direttamente con l'associazione e viene svolto il progetto all'interno delle classi quando i progetti ovviamente sono molto molto richiesti poi normalmente tendono a continuare negli anni quando magari un progetto non è tanto richiesto perché non suscita l'interesse l'associazione tende poi a non ripresentarlo a cambiare a cercare di indirizzarsi nel modo migliore verso quello che interessa io per farvi un esempio ce l'ho proprio qui sotto mano solo per quelli legati ai temi ambientali per cui solo in quella parte lì ora il nuovo bando ancora non sappiamo come si chiuderà perché è appena appena stato aperto però noi abbiamo quasi una trentina qualcosa di più di progetti solo legati al tema ai temi ambientali ai temi ambientali a tutto tondo per cui si parla dell'acqua si parla delle tematiche del del riciclo dei materiali si parla dei temi legati più a 360 gradi dell'ambiente si parla dei temi ambientali all'interno della nostra città esempio l'Arno l'importanza di avere un fiume all'interno della città e di come bisogna avere il rapporto con il fiume dei nostri polmoni verdi di quanto questi sono sono importanti mi viene da pensare il parco delle cascine quanto debba essere valorizzato e quanto questo ha una sua funzionalità all'interno del sistema ecologico ecologico che abbiamo ne sto citando solo alcuni però sono tutti i progetti che vanno a toccare ognuno per ogni aspetto in qualche maniera dei punti che sono dei punti di interesse il tema anche di tutta la parte legata anche alla sostenibilità di una città anche col tema non solo dell'ambiente ma il tema degli animali che poi nell'ecosistema questo è ovviamente fondamentale insomma sono tanti tanti progetti il tema stanno passando ora delle immagini che tra l'altro a me toccano personalmente in maniera importante che sono una delle donne innamorate profondamente del Brasile avendoci vissuto e lì è un tema sul quale c'è da lavorare tantissimo ancora il tema delle discariche in Brasile dell'attenzione all'ambiente è un tema estremamente delicato vengono toccate anche tematiche legate al come da ogni parte venga valorizzato o meno e come ci sia attenzione a questi temi perché io penso che e questo è un qualcosa che noi adulti lo stiamo capendo un po' dopo ma i nostri ragazzi lo hanno colto immediatamente nei vari confronti che ho avuto questo è un tema che è venuto fuori subito non bisogna pensare solo al nostro piccolo ecosistema perché non basta perché noi possiamo essere i più bravi del mondo qui a Firenze nel cercare di prestare attenzione dalla sigaretta che viene buttata per terra al pezzetto di plastica che viene buttata nei rifiuti differenziati possiamo stare attenti ai minimi dettagli a utilizzare le macchine elettriche i motorini elettrici e tutta una serie di questioni ma se in tutto il mondo non si attiva questa attenzione globale rischiamo che un pezzettino rimanga solo una goccia nell'oceano per cui anche la possibilità di avere questi movimenti che sono dei movimenti trasversali molto forti con i ragazzi permette di riportare l'attenzione a 360 gradi perché se non si va a gire su quei paesi lì poi i piccoli sforzi che facciamo quotidianamente nelle nostre città rischiano realmente di non bastare avevo visto sul tuo curriculum che avevi avuto questa esperienza in Brasile perché tu hai una formazione di psicoterapeuta non so se ci porta da un'altra parte però ora questa è una domanda proprio sul piano personale che progetto seguivi e quando sei stata in Brasile allora domanda personale su cui ci perderai una giornata per cui cerco di rimanere in un in un ambito un po' sintetico ci provo io quando sono andata in Brasile sono andata in Brasile per fare una ricerca legata alle tematiche della salute mentale per cui come venivano curati i pazienti con problematiche psichiatriche all'interno di dispositivi tradizionali era il periodo in cui in Brasile stavano chiudendo i manicomi aprendo le comunità terapeutiche per cui il mio lavoro principale sia di ricerca e poi anche di lavoro era in quell'ambito lì siccome però sono sempre stata abituata a fare tante cose avevo preso contatti con dei progetti con delle ONG internazionali e facevo volontariato anche con i ragazzini di strada con i mininos di rua e vi assicuro che io sono stata in Brasile quasi due anni la cosa che a me ha colpito più di tutti perché ovviamente le attività con i bambini di strada erano all'interno delle favelas all'interno delle discariche quello che vediamo in questi documentari chi vive in Brasile e che lavora in certi contesti lo vede quotidianamente e lo ritrova nella realtà in maniera molto cruda e molto forte un paese grande come il Brasile con un polmone verde come quello che c'è l'Amazzonia è il polmone del mondo lo dobbiamo dire e dobbiamo riconoscerlo con tutti i problemi che poi sappiamo che ci sono purtroppo e sui quali è attenzionato il mondo intero un paese come questo che ha una natura straordinaria che ha una potenza della natura straordinaria manca completamente di una cultura del rispetto e della cura dell'ambiente a me la cosa che più mi ha colpito mentre lavoravo e vivevo lì in Brasile è che il primo punto e qui si ritorna al tema dell'educazione il primo punto sul quale c'era da lavorare con i bambini di strada che ovviamente avevano una complessità di vita enorme per cui c'era da lavorare su tutti i fronti però era non solo nel recupero dell'autostima dell'individualità è un accompagnamento per uscire da percorsi che erano di marginalità totale perché chiaramente il bambino che viene abbandonato o che si allontana dalla famiglia perché poi ci sono gli uni e gli altri casi ha bisogno di un percorso del genere ma quando te disprezzi te stesso disprezzi anche quello che è intorno entrare in questi luoghi ecco stanno passando le immagini che tu fossi in una favela o che tu fossi in una discarica la differenza era veramente poca perché vedevi tutto buttato da tutte le parti non c'è e non c'era assolutamente la cura dell'ambiente e lì si faceva un grande lavoro con i volontari da un punto di vista non solo di recupero individuale ma di educazione al rispetto anche dell'ambiente nel quale si vive perché io cerco di recuperare me stesso ma contemporaneamente devo rispettare l'ambiente ecco io penso che in questi paesi ancora di più che da noi debba essere fatto un grandissimo lavoro in questo senso perché purtroppo spesso il disagio individuale e il poco rispetto che io ho per me stesso poi lo trasformo nel poco rispetto che ho di quello che è il mondo che mi circonda per cui non si può lavorare sull'individuo se non si lavora anche sull'ambiente che c'è intorno questo il film appunto di cui si sono viste alcune immagini Wasteland è un progetto un po' straordinario di un artista brasiliano che è diventato ormai non voglio dire all'apice della sua carriera ma insomma comunque un artista conosciutissimo dal mondo dell'arte torna a Rio la sua città natale per fare un progetto con i Catadores appunto con gli abitanti se si possono chiamare così che vivono nella discarica si chiama discarica Gramaccio è una delle discariche più grandi del mondo e attraverso l'arte dà una dignità a queste a queste persone è un film che ha vinto anche l'Oscar per il miglior documentario straniero quindi è un film non solo fatto benissimo ma molto convergente per la storia che racconta e per e perché dimostra che con l'arte e con la bellezza anche se sembra forse una parola difficile da usare in certi contesti attraverso la conoscenza della bellezza e della cultura allora si può ambire un riscatto questo era uno dei tre film come tu citavi dal programma vediamo se ci sono delle domande no? allora io volevo volevo chiederti a questo punto quali sono se ci sono dei progetti futuri del Comune di Firenze intorno a questi temi allora si oltre ovviamente ai progetti delle chiavi della città che sono che sono progetti a quali a quali noi teniamo particolarmente io sono sicura che arriveranno anche tanti progetti di nuovo sui temi ambientali già un po' dalle prime cose che iniziano a arrivare dalle prime richieste questo sarà un tema che sarà attenzionato ecco oggi abbiamo tre pagine di progetti e mi auguro che la prossima volta ci sia un'offerta sempre maggiore in modo da dare sempre più risposte ai nostri ragazzi noi stiamo lavorando tantissimo anche una cosa alla quale io tengo particolarmente tra l'altro avendo la doppia delega con la delega all'educazione la delega all'welfare che poi i temi ambientali si incrociano spesso con i temi anche del bisogno da un punto di vista sociale noi abbiamo lavorato e vogliamo lavorare tanto anche con tutto il tema che è comunque connesso ai temi ambientali dello spreco alimentare che è un qualcosa su quale dobbiamo portare attenzione in maniera molto molto forte abbiamo fatto già nel tempo tutta una serie di progetti di sensibilizzazione attraverso le aziende delle menze che lavorano con le scuole però volevamo ora iniziare un progetto un pochino più strutturale dove fossero gli studenti le studentesse essere protagonisti per cui iniziare a fare dei ragionamenti molto seri su come evitare che ci sia lo spreco alimentare da una parte su che cosa vuol dire quali sono le conseguenze dello spreco alimentare e farli diventare in qualche maniera un po' attori protagonisti anche di un processo di avvicinamento con chi realmente può usufruire di una di un'economia che sta più attenta anche a queste tematiche lo vorremmo fare vorremmo partire tra l'altro qui faccio un piccolo annuncio che ancora non è pubblico vorremmo partire prima dell'estate per cui iniziare già con una sperimentazione coinvolgendo un po' le scuole fiorentine per fare in modo che si possa spiegare come va tenuto all'interno all'interno di una famiglia quello che è il bilancio economico alimentare quali sono le conseguenze da un certo punto di vista se io compro faccio un esempio due chili di cibo che poi dopo magari ne mangio uno e l'altro lo butto via quali sono le conseguenze non solo in termini economici ma proprio anche in termini di sussidiarietà da un punto di vista generale come una famiglia che ha poche risorse può mantenere un equilibrio un equilibrio alimentare che impatto ha questo sulla natura ora sto dando dei flash ma per far capire che quando si parla di tematiche di sostenibilità si possono guardare da tutti i punti di vista e il tema del recupero alimentare in un momento storico come questo secondo me è fondamentale noi lo stiamo vedendo io sto facendo il giro di tutte le associazioni che stanno distribuendo i pacchi alimentari per la città sono migliaia e migliaia di cittadini che hanno bisogno sono tantissimi e spesso noi quando mangiamo e quando buttiamo via il cibo o quando lo lasciamo scadere non ci rendiamo conto di queste conseguenze e non ci rendiamo conto spesso neanche di tutto il lavoro che c'è dietro per la preparazione di quel cibo e che cosa vuol dire buttarlo via perché anche questo vuol dire rispetto dell'ambiente ecco se iniziamo a fare un lavoro di sensibilizzazione a 360 gradi e questo è quello che noi vogliamo fare secondo me riusciamo a riattivare anche l'attenzione non solo sul tema della sostenibilità ma anche sul tema della vicinanza e rispetto verso l'altro che magari vive un momento più di difficoltà e se io sto più attento di conseguenza do più risposte anche all'altro bellissimo questo progetto e quindi ne sapremo a breve di più in maniera formale con non so se sarà un bando o una noi in realtà vorremmo partire inizialmente coinvolgendo proprio le scuole per cui iniziando a fare un po' di una sorta di raccolta alimentare da lì partire con un'azione un po' simbolica ma per costruirci poi un progetto sopra di attenzione di sensibilizzazione di confronto ovviamente con i nostri ragazzi ci sono degli operatori che sono formati appositamente per questo tipo di progetti c'è bisogno di volontari o come come si può partecipare ma allora inizialmente di solito noi questi progetti li facciamo coinvolgendo molto gli insegnanti come come è giusto che sia perché poi sono quelli che quotidianamente stanno stanno in classe e hanno ovviamente un po' il polso della situazione poi ovviamente coinvolgiamo tutte le associazioni che si occupano dei temi alimentari per cui mi viene da pensare Caritas Banco Alimentare che sono quelli che poi effettuano il grosso del recupero ovviamente i volontari sono sempre graditissimi e ben accetti perché sappiamo bene che in questi ambiti le risposte di sensibilità da parte dei cittadini sono sempre tanti ma le forze per portarle avanti non sono mai abbastanza quindi noi siamo ben felici quando arrivano persone nuove che vogliono unirsi a collaborare come giudichi la città di Firenze e i comuni limitrofi siamo tutti siamo tutti cittadini come giudichi la reazione del nostro territorio a questi temi cioè siamo una città attenta siamo fortunati io l'ho sempre detto l'ho sempre detto pubblicamente e continuo a sostenerlo noi siamo una città ora i comuni limitrofi conosco meno le situazioni specifiche ma so che l'attenzione c'è anche nei comuni limitrofi io dico sempre Firenze ha una storicità di sensibilità per quello che è il tema della solidarietà che io ho visto in poche realtà così forte la mobilitazione che c'è da parte delle nostre cittadine e dei nostri cittadini quando c'è un bisogno è fortissima e lo vediamo non solo nell'organizzazione delle associazioni tra l'altro Firenze è una delle città che ha più associazioni penso a livello italiano un proliferare continuo di associazioni del mondo del volontariato ma lo vediamo anche con le iniziative singole da un punto di vista di cittadinanza di cittadinanza attiva vi porto un piccolo esempio a Natale è nata questa iniziativa che era un'iniziativa nata da un'idea di una di una persona milanese del regalo sospeso per cui in un momento come questo come la pandemia dove tante famiglie hanno difficoltà anche a poter fare a poter fare regali era nata questa iniziativa dove dici bene compra fai una scatola mettici tutta una serie di prodotti dentro incartala e lasciala a un'associazione di volontariato per poter fare in modo che un cittadino che ha più bisogno possa ritrovarsi con la scatola regalo sotto l'albero di Natale con le reti di solidarietà del comune di Firenze abbiamo deciso di diffondere il più possibile questa iniziativa io non vi dico le migliaia di scatole che sono arrivate a Natale fatte dai bambini fatte dai ragazzi fatte delle famiglie pensando poi a coprire tutto perché c'era la scatola regalo per il bambino ma c'era la scatola regalo anche per il nonno per cui noi ci siamo ritrovati con migliaia e migliaia di scatole da dover distribuire alle famiglie che erano in difficoltà sul nostro territorio è un piccolo gesto simbolico ma un gesto simbolico che dà il senso dell'attenzione che c'è da parte dei nostri cittadini e della sensibilità che c'è da questo punto di vista questo sul versante sociale sul versante delle scuole lo vedo e lo riscontro quotidianamente nei gruppi classe sia da parte degli insegnanti che da parte dei ragazzi e dei genitori se c'è una situazione di difficoltà c'è sempre una solidarietà che si attiva intorno a me è capitato tantissime volte di avere singole segnalazioni magari dalla mamma della compagna di classe o dal babbo o direttamente dall'insegnante quando percepiscono intuiscono che c'è una situazione di difficoltà per cui Firenze da questo punto di vista è una città fortunata siamo brontoloni ma poi il cuore è grande bene fa piacere sentire dire questa cosa c'è una domanda che dice così secondo lei è possibile rendere la questione ambientale una priorità nei paesi dove la povertà è il problema principale domanda giustissima c'è il nome di chi l'ha fatta? no è anonima sì domanda giustissima mentre parlavamo prima e mentre vedevo scorrere le immagini è uno dei pensieri che a me passa sempre per la testa nel senso che lo dicevo prima è inutile che noi facciamo tutta una serie di azioni qua qui ed ora se poi dalle altre parti dove c'è realmente un problema un problema importante da un punto di vista di azione di sostenibilità ambientale non viene fatto niente devo dire che si dà spesso la colpa la colpa ai governi e in parte ce l'hanno perché bisogna riconoscerla in alcuni paesi non c'è nessuna attenzione né ai percorsi educativi né all'attenzione a questi temi e non c'è un'attenzione politica istituzionale ci sono tantissime organizzazioni internazionali che cercano in qualche maniera di mettere un fermino in qualche modo cercando di sensibilizzare attraverso progetti ambientali che vengono fatti nei vari paesi su queste tematiche è chiaro che spesso sono una goccia nell'oceano secondo me per arrivare ad agire in maniera molto molto radicale bisognerebbe che ci fosse un'attenzione prima di tutto degli stati devo dire che se non ci fossero le organizzazioni internazionali non si vedrebbero neanche quei piccoli cambiamenti e quei piccoli miglioramenti faccio un esempio concreto io oltre al Brasile sono un appassionata dell'Africa e spesso vado a fare ora meno perché facendo l'assessore chiaramente il tempo è ridotto ma quando posso mi ritaglio un po' di tempo e vado a fare missioni istituzionali io dovunque sono andata negli ultimi anni sono andata in Madagascar a un altro paese tra l'altro con un indice di povertà altissimo con un ambiente straordinario ma dove la cultura del rispetto dell'ambiente è molto molto bassa anche lì e lì ci sono tante organizzazioni internazionali che fanno progetti ecosostenibili progetti anche su tutto quello che è l'implementazione dei pannelli solari l'attenzione alla divisione dei rifiuti tutta una serie di cose ma sono sempre progetti che provengono dall'Occidente che vanno in qualche maniera a gettare un semino ecco bisognerebbe provare un po' a scuotere questi paesi nel senso a farli capire che o sono loro a livello governativo che iniziano da una parte a dare attenzione a queste tematiche come priorità assolute oppure si rischia realmente che siano tutte azioni meravigliose ma che siano piccole gocce dell'oceano mi viene da pensare il documentario che citavi dove è nata questa cosa straordinaria per cui anche attraverso l'arte la potenza dell'arte di poter trasformare quello che è rifiuto e in qualche maniera partire dai rifiuti dalle discariche per uscire con un progetto di educazione ambientale da un certo punto di vista attraverso soprattutto attraverso l'arte rischia di rimanere una goccia nell'oceano se non c'è un sistema strutturale che parte dalle basi dall'educazione e dico una piccola cosa e chiudo nell'ultimo nell'ultimo viaggio che ho fatto che ho fatto in Madagascar c'era una signora francese bravissima che era andata a vivere in questo villaggio dove lei faceva questa scuola per i bambini perché poi lì c'è un problema anche di educazione di scuola nei villaggi più lontani spesso i bambini non arrivano neanche andare a scuola perché non hanno la scuola vicina e lei aveva insediato questa scuola dove insegnava i bambini a scrivere a leggere le insegnava anche altre lingue in modo che potessero avere un minimo di grado istruzione maggiore rispetto a quello che ci poteva essere nel loro paese e lei contemporaneamente però lavorava molto anche sui temi di educazione ambientale tanto che a me mi colpì moltissimo perché i bambini quando andavano in spiaggia prendevano la caramella e passavano al turista a darglielo invece di buttare la cartaccia per terra se la conservavano e la andavano a buttare nel cestino cioè piccoli segnali ecco se questo fosse istituzionalizzato completamente probabilmente tra qualche anno riusciremo a vedere un cambiamento molto molto più forte per cui secondo me sì è possibile arrivarci ma è possibile arrivarci solo se si agisce in maniera molto molto forte fin da piccoli speriamo cioè speriamo nel cambiamento delle istituzioni nella nella presa di posizione concreta da parte di chi ci governa e nel nostro piccolo però non dobbiamo smettere assolutamente di essere informati quantomeno e di agire nel nostro quotidiano in maniera rispettosa nel confronto del nostro pianeta che ci dà sostegno non ci sono domande per per Sara e siamo quasi arrivati alla fine del nostro tempo io ti ringrazio tantissimo perché forse è la prima volta che abbiamo occasione tra l'altro di parlare insieme e è una bella cosa che il comune di Firenze abbia una persona come te a occuparsi di queste cose grazie no il grazie il grazie lo devo lo devo dire io intanto a voi per quello che portate avanti ogni giorno con compassione diciamo nessuno di noi nessun amministratore sarebbe in grado di portare avanti le politiche che porta avanti se non avesse questa rete intorno di cittadini e di associazioni che poi si fanno promotori di tutta una serie iniziative e questo è il primo è il primo punto dall'altra parte saluto le ragazze e ragazze devo dire che la cosa che ho più sofferto in assoluto in questo anno è il non avere la possibilità di confrontarsi direttamente insieme in presenza perché lo schermo dell'arte lo schermo dell'arte è bellissimo quando guardiamo un documentario come ora ma sicura ai ragazzi che non sono qui con noi che essere all'interno di un cinema nel cinema della compagnia che normalmente siamo abituati a vedere sempre pieno gremito di persone di cittadini di ragazzi e non avere la possibilità di avere il contatto fisico perché il contatto fisico è fondamentale a me personalmente fa sentire un vuoto e una mancanza molto molto forte e mentre per l'arte lo schermo è fondamentale soprattutto quando si parla di cinema ecco io per la scuola invece penso che dovremmo avere un po' meno schermo e molta più presenza per cui mi auguro che potremo riavere questo progetto poterlo riavere in presenza e poter avere la possibilità di confrontarci insieme su questo o su tante altre tematiche con i nostri ragazzi in modo da riuscire a stabilire quel contatto diretto che è fondamentale per tutti noi grazie molto Sara Funaro back to cinema allora noi salutiamo tutti e tutti insegnanti studenti studentesse chi ha partecipato a questa serie di incontri ringrazio i miei collaboratori dello schermo dell'arte che sono stati bravissimi a lavorare in questo contesto tutto virtuale anche noi contiamo prestissimo di tornare in sala non so se dalla regia si può chiudere con un'inquadratura larga del cinema seppur vuoto ma come buon auspicio che presto potrà essere tornare a essere pieno grazie a tutti e a presto